Scatman's World Né su Battlefield, né su i code Né su nessun FPS, su Crysis Quindi ragazzi era giusto registrare questa partita Perché è un miracolo, cioè questo è veramente un miracolo Comendiano ragazzi Vai che il Comenda vola, vai che il Comenda domina Come si fa? Oh, meno male Allora ragazzi Questo è proprio un miracolo di proporzioni Cosmiche incredibili Su Battlefield avevo fatto una scommessa Non ci sono mai riuscito, finalmente ce l'ho fatta ragazzi Adesso andiamo e gustiamoci Questo gameplay da Pro, attenzione E uno Grande Comendone, il Comendone domina Vai Comendone, madonna che è strano Fare i video non in live Così, sono molto più belli in live secondo me Guarda il Comendone, guarda che classe, guarda che classe Mamma mia, come si gira il Comenda non si gira nessuno Mamma mia Spettacolo puro ragazzi Spettacolo puro E questo tira ancora una bomba, cazzo tira Vai Comendone, con tecnica e classe Vai con classe Comendone Vai di classe Comendiana Vai, 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 tu, 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 tu Due uccisioni consecutive ragazzi, calma Gran calma Il Comendone, miracolo Comendiano ragazzi Miracolo Comendiano Attenzione 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 E' finita la festa ragazzi E' finita la festa Vai Comendone, portiamo a casa il miracolo Comunque l'obiettivo era fare un Come si dice, una partita con un rapporto almeno Di uno Cioè, un rapporto comunque superiore Non l'ho mai fatto Fino a sempre fatto tipo, non so, sei morti Dodici uccisioni Ecco, ma rifare tipo, non so, sette uccisioni E morire sei volte Ecco, quello era l'obiettivo Attenzione Il Comendone prova da una distanza impossibile E viene inculato così Beffato il Comendone veneziano Andiamo con la mitraglia No, con le pistole Vai Come, vola Vai Come, voliamo verso la gloria Vai, vai di mitraglia Vai, 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 vai Para, 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 para Uccisione incredibile Colpo a distanza, il Comendone Damina Sono stato promosso anche, che bello Adesso camperiamo un po', fioi Camperiamo Che bello camperare, ragazzi Sono quelle cose della vita meravigliose Attenzione Eh, una volta ti va bene, Comendone Dai ragazzi, ce la dobbiamo fare Finalmente abbiamo Come si dice Mantene la promessa Cioè Ce l'abbiamo provato mille volte Non ce l'avevamo mai fatta, cazzo Di riuscire a fare un rapporto positivo Con le uccisioni Questa volta ce la dobbiamo fare, ragazzi Dai, Comendone Non c'è più nessuno, Comendone Comendone te ne puoi anche andare Ecco, no, queste pistole no, però Ci sono i fail Comendiani, ragazzi Un po' di pietà Eccola là E vai che andiamo Vai che andiamo a spaccare il culo a tutti Dai, Comendone Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ecco bella mamma mia ragazzi che mira mira come indiana incredibile partita tranquilla comunque in questo momento non siamo in tantissimi però comunque non è mai semplice mamma mia come indiana su black ops è incredibile è un avvenimento veramente più unico che raro comunque ragazzi ho accettato tutte le vostre richieste d'amicizia e ragazzi se volete consigliarmi qualche gioco da fare sull'xbox prima di gta io pensavo molto sport ma attenzione e vai comenda io pensavo molto sport ma se è qualcos'altro ben volentieri ragazzi sapete che il cumendone è pronto a tutto attenzione attenzione dai 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 questo deve morire deve morire deve morire deve morire e crepa zoccolo e invece muoio vai cumendone supportiamo a casa comunque i commenti in live sono molto più belli questi qua così non mi piacciono per niente però fatalità questa è una partita meravigliosa ragazzi è una partita strepitosa questa potete vedere anche voi che è stupenda vale comendone adesso fa la cosa tattica vai comendone vai di tattica attenzione questo muore meliciavano sempre quelli buoni ecco la pistola è rimasta in aria bene eccola ce ne sono due dai cumendone vola ah dio mio che dura che è dai dai che c'è questo ammazzalo però ammazzalo grande mamma mia mamma mia che cumendone ragazzi no non ci posso credere un cumendone così mai visto nessun fps cioè penso mi sto esaltando per questa partita ragazzi cioè non lo so io non sono proprio sono proprio una pipa io ho sti giochi attenzione il cumendone domina mamma mia mamma mia che veneziano ragazzi mamma mia che veneziano eccolo qua adesso mi ammato sto blair squash dai ragazzi dai adesso quante cazzo che rapporto ho cazzo non mi fa vedere un cavolo cioè io me lo ricordo però il parziale non fa vedere il parziale maledetto stronzo attenzione bravissimo anche con il coltello mamma mia mamma mia cosa sto combinando il cumendone mamma mia che partita cumendiana mamma mia che roba questa è la mia migliore partita ancora attenzione questa è la mia migliore partita della storia di code ragazzi anzi nella storia dell'fps quindi quindi dopo questa basta io ho finito di registrare partite di code di batter fino di crisis perché non arriverò mai al livello così elevato cioè lo sapete ragazzi è solo una pipa di proporzioni storiche ora sto combinando ecco mi sono fermato così ogni tanto il cumendone si ferma non so che cazzo fare non c'è nessuno qua come occio mamma mia mamma mia che rischio esplosirò sta per te dura 10 minuti mi pare quindi mancano 2 minuti alla fine comunque ragazzi sto avermiglia è una figata clamorosa sto aspettando troppo gta ragazzi vuole di nerdare su gta porca mignota vai cumendone dove sono i nemici dai cube dai cube non c'è più nessuno adesso però ha fatto una bella partita Kenz the ninja si è connesso insomma e io ho dei problemi che a volte non trovo più nessuno sono fatto così in un momento trovo tutti in un momento non trovo nessuno non capisco comunque ragazzi continuo a dire i video non in live non hanno lo stesso fascino secondo me mi fa proprio cagare vai occio è un'altra mamma mia ragazzi c'è qua il cumendone sta portando a casa un risultato storico un risultato storico attenzione ancora il cumenda veneziano no youtubers italiano grandissimo grandissimo comendone veneziano la migliore partita della storia di black ops pensa come pensate come sono preso ragazzi radar disattivato occio radar disattivato vai cume occio nooo è finita la storia è finita la serie positiva porca miseria credo che senza radar è un po' dura dai cumendone su adesso non mi ricordo più se è finita l'uccisione o no non mi ricordo più un cavolo porca miseria che bella sta mappa mi piace i colori le robe attenzione grande grabe va benissimo così stiamo vincendo mamma mia ragazzi stiamo vincendo mancano 52 secondi 50 secondi 49 attenzione dai che c'era un altro dai che c'era un altro corri forest dai dai che lo prendiamo dai che lo prendiamo un'altra mamma mia spettacolo puro al cumenda stadium grande grande qua c'era un altro qua c'era un altro no non è possibile no ecco questo è il classico fail assist no 52 53 no stiamo perdendo no mancano 20 secondi no fiono che credo 20 secondi alla fine questo non l'ho preso qui sono una pippa grande mancano 10 secondi però attenzione è finita ragazzi è finita c'è una partita strepitosa e forse 65 dai dai no sconfitta non ci credo una volta che faccio una partita decente sconfitta comunque ragazzi è stata una grandissima partita questa è una partita stellare indescrivibile risultato 3 rapporto 13-6 2.17 miglior partita della storia del comendone ragazzi incredibile lo dovevo per forza registrare ragazzi perché è una roba che va al di là di tutto c'è una prudezza devastante ok buono raga allora basta adesso penso video di cold basta perché insomma questa partita è irripetibile per me è il massimo ragazzi più di così non so fare sono stato proprio fortunato sinceramente a trovare anche poca gente e niente raga un saluto del comendone veneziano ciao comenda veneziano comenda veneziano comenda veneziano lo youtubers italiano comenda veneziano comenda veneziano comenda veneziano lo youtubers italiano Piano